Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale Oggi proveremo Outworlder Allora, opzioni, sound, music Anche se è la bellina Poi, non credo che ci siano le lingue E multiplayer, attenzione Single player, new game Anche perché è la prima volta che lo provo Debug menu What? Word seed, randomize Ok, facciamolo così Possiamo scrivere anche le lettere? No Randomizza, va benissimo Direzione, default, random Non so cos'è il director aggressivo Default Crush and land, art mode No, 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 facciamo le cose così Start Ok Tutorial Daybreaker Wildlife is not classified Cibo Necessito di un letto e del cibo Perché c'è sta freccia qua? What? Ah La freccia è la selezione Eh, posso farlo? Ah, ok Perfetto Tab e l'inventario Ottimo Ma c'è troppa roba però Ah, crafting Quindi Torcia Come fire Andiamo a vedere un attimo Metalli Perfetto Eh, sembra un po' terraria Ah, va bene Con la E Prendiamo tutto Salto Prendiamo anche questo Perfetto E direi Come Cos'è qualcosa? No? Lo posso uccidere? Sì Grande Ehm Qual è il mio? Qual è il suo? Vabbè Andiamo a scavare qua Iniziamo allo scavaggio Ok Sì, lo so che non si scava mai in basso Così, però Andiamo un po' a questo Non so chi sia Buddy Facciamo un po' Lo scavascavare nella caverna Forse abbiamo trovato qualcosa Vedo il minerale Questo è granito Non so un po' come faccio a salire Ci ho pensato adesso Coal Quindi carbone Dovrei fare Una scala No Torch Wooden panel Metal Che è sta roba? Che vuol dire? Un viaggiatore è arrivato dall'est Che è questo? No, questo è lo snake Ah, Buddy Talk, trade, add, squad C'è Ma allora da dove viene? Adesso cade pure lui Bravo Strada Ah Follow me Banisha Follow me Eh, done Ok, ma Soldato Sniper Ma che figata Ma che figata Gli puoi dire il ruolo Al colonio Il ruolo Ok Ok Aggiungi alla squadra Vabbè Buono L'unica cosa che devo capire è Ok Ma Testa Perfetto Perfetto Disbanda squadra Ecco Bravo Vai lì Perfetto Mi serve Il ferro Non capire Non capire Come andare avanti Non c'è neanche Un tutorial Eh Però Diciamo Un po' Alla terra Aria Un po' Alla Ma perché si è aggrappato? Si era aggrappato Quindi Quindi posso scalare Si Si aggrappa Siamo liberi Salvi Ce l'abbiamo fatta Il colono Dov'è Buddy? Returnal Fire only Target I soldi Aggiungi alla squadra Guarda guarda adesso Cerca di venire lui No Ma è bello che scivola Wow Il carattere è fighissimo Guardate Come Come scivola Fighissimo Bello Mi piace Mi piace I personaggi sono fatti bene Perfetto Ora A noi serve Fornitura Bud e coal No Campfire Tool branch Tool branch Questo qua si fa con Questo 10A E come si fa a farlo? Ah così Perfetto Non so cosa sia sta cosa Ok Adesso questo Ah metto qua Ok Vado qui E lo Posiziono qua Ottimus Prime Quindi Ah ecco Adesso c'è molta più roba Perfetto Perfetto Ok ci siamo Oh Il classico Il classico Oh Bad Granite Cosa vuole il bad Granite Granite Stod chunk E ce l'abbiamo Abbiamo a Bizzeffe Inventato Non gli piace Come faccio A farlo Aggiunta Alla mia Bycraft Distension Sandstone Bud Uno di quattro Il bud Me lo fa fare Andiamo a prendere Un po' di bud Così Lo posso fare? Non credo proprio Look inside Forse perché L'ho spostato qua Andiamo Aspetta The Ab tool Bench Ok Ma questo Per L'iron bed Ehi no Lo vorrei fare Di iron Tavolo Vabbè Facciamo Ah Eccoli qua Come si fa Ok Ne voglio fare Due Uno per me Uno per quello Ok E gli devo mettere L'iron No Ma ci vogliono Sei di iron Che io non ce le ho Eh caro mio Eh caro mio Ho capito Quello è per la sequenza Invece questo qua È il granito No? Questo è l'iron Io ho visto il granito Comunque Granito Stone chunk Quattro Ok Quindi adesso Io devo fare Così No Così Eh Stone chunk Facility storage Tipo una roba del genere Lo devo mettere Così Non è che l'abbia capito Allora Ah Eccolo qua Granito Granito Vai Questo Aggiungi questo Perfetto Questo si può fare Ok Sì è un po' Strambo Però che si può fare Lo sta facendo Crafting Ottimo Quindi lo craft E lo posiziona Qua Perfetto Noi ce lo prendiamo E chiudiamo Andiamo a prendere questo E posizioniamo Il letto Uno qua E uno qua Perfetto Letto fatto Necessitiamo di cibo Patate 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 Ah Bastava un letto Ok E adesso Facciamo un po' Di torce Per forza Ah un campfire Cominciamo a fare il campfire E lo posizioniamo Qua Ok Ucciniamo le patate 15 patate Però qua c'avevo il pollo io No No Mettiamo la patata E ho mangiato anche quello Perfetto Adesso No no basta mangiare patate però Eeeh Mi servirebbe Che cos'è questo? Beh è crashato a qualcosa Allora mi servirebbe un'ascia Come si fa l'ascia? Iron Or 5 Ce n'ho 2 15 Andiamo di qua Qualcuno si sta scannando qualcosa Paura Paura Io me ne vado qua Misteriore Ok Ok E anche questo Buddy Buddy ha fame Non l'ho capito No Aveva fine Stava morendo Qualcuno l'ha attaccato Sicuro Ottimo Uno e due Questa è la gravel Questa è la gravel Questa cos'è? Oh wow Aia Ci sono i pipistrelli Ci sono I pipistrelli Ci sono Siamo in attacco L'ho ucciso L'ho ucciso Ok Campfire E Non si può Diamo un po' di questo Questo Carbone E la terra Grave E questo Non si può cucinare Sto cosa Volevo cucinare Il topo morto Io Che cavolo sono Questi qua Coming soon Vabbè 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 E Come si fa a dormire? Scusate Option Controlli Non ci sono controlli Voglio dormire Anch'io Vabbè Non si può dormire Lui dorme No Questo cos'è? Il pipistrello Ma si può prendere tutto Però Non capisco Vabbè Vabbè Lascia Mi serve Il coso Ah Eccoli qua I controlli F1 Allora Moving Jump Walking Inventory Drop item Posiziona Usa Tie line drop Change Select Quindi Quindi E qua Questa qua Ah praticamente noi possiamo mettere questo Praticamente lui fa tutto quello che vogliamo Beh questo è buono ci sta Mettila qua e questa qua Poi andiamo qua Questa mi servono le patate Cucina tutte le patate Perfetto Poi vediamo come fare A fare certe cose Cioè del tipo Coming soon ok Ovvero Come si fa ad arare Caxe, steel Ok no Armorer, campfire Kitchen La kitchen Vuole 5 di wood Raffineria Research bench E tool branch Questo mi serve Il tool branch Così facciamo i tool Ok Ma forse era questo già Abbiamo già fatto il tool branch Forse No 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 In teoria no Eh sì è questo Mi sa che Ho fatto due volte Un'ecra Si può buttare via Una cosa? Tipo posso distruggerla? No Beh lasciala qua Eh Ho sbagliato La kitchen Invece Cosa voleva? Machinery Part Ma si può fare la spada? No Ma adesso abbiamo L'ascia E possiamo abbattere Quest'albero Sì E ci siamo raccolti Un bel po' Questa cosa qua Che si aggrappa È bellissima Un bel po' Di Con lo shift Si rallenta Il controllo Non fa niente Look inside Abbiamo Ammo Medical kit E le torce È solo per vedere Praticamente Però possiamo Piazzarla Tipo qua Ottimo Ok Adesso Che Ci abbiamo tutto Ci serve una di queste Che si fa con Iron ore E 15 di wood Ce l'abbiamo No C'è la kitchen Dannazione Perché è messa sopra Vabbè Ci siamo fatti La cucina Il cibo Va qua Le bacche Le mettiamo qua Queste Mettiamo qua E invece Questa Cosa vuole? 15 E 10 Eh Ci serve il ferro Ok Ok Posiziamo la cucina Nella posizione Qui Perfetto Nella cucina Oh Ma che sta Fa Ah Sta maciullando Bravo Buddy Bravo Mi piace Mi piace Buddy Bravo A me non fa qualcosa Sta maciullando Tutto Sta creando La carne Ottimo Bravo Bravo Buddy Bravo Adesso io Vado a prendere Nel frattempo Ehi Sono i vermi qua Ehi Ah il pipistrello E' quello più Più rognoso Secondo me Abbiamo bisogno Di E' andato Eh Buddy Però Secondo me Tu dovresti Prendere Le cose Andiamo qua in caverna Non c'è niente Vero? Abbiamo finito? E' misterio Mi sa che Ho bisogno Di una ricerca C'è la sabbia E abbiamo trovato L'altro ferro Vai 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 Mi sa Quanto è profondo Intanto mangiamo Qua Ci serve Il cibo Secondo me Ai coloni Gli si può dire Tipo Scava tutto qua intorno Fai questo Fai quest'altro Forse 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 Non lo so Quanto Ne abbiamo Di ferro Nove Non mi ricordo Quando eravamo In casa Ma ci vorrebbe La pala Comunque Ma Queste non hanno Durabilità Non hanno Durabilità Non hanno Durabilità Spero Basalto Ma quanti Patriali Ci sono Usando Un bel po' Eh Ci voglio Vedere Se c'era Del ferro Sicuramente Ci servirà Eccolo qua La sabbia Per fare Il vetro Stile minecraft Credo Ah Una grande Vena di ferro Abbiamo trovato Ottimo Ottimo Che ci serve Grande Poi Questo Eh Ha ragione Anche lui Non può stare In un cubo Solo Et voilà Eh Non ti arrampichi Non so Ancora Non ho capito Bene Come E quando Si arrampica Però A volte Si attacca A volte No Non lo so Perché Però è bellissimo Come corre Fa pure La scivolata No Ci sto provando Perché Ah Perché ho premuto La Q Eh no Così Non va bene Uno Eh no Così Così Uno E due Sennisteri E poi Uno E due E facciamo così Da qua A qua E poi da qua A là Ci vorrebbe La scala Eh adesso Si è aggrappato Eh Ok Andiamo di qua Vediamo un po' Che cavolo c'è qua Oh 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 È pesante Questo qua L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Ula 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 Guarda come sono forte Salta Salta No Buddy Pensaci tu Guardate Buddy Guardate Buddy Grande Buddy Eh Ci pure la duck Ci facciamo pure la duck Bravo Buddy Vai Il nostro macellaio Bene signori Io spero Che abbiate capito Molto di più Da questo gioco Io Lo continuerò Perché Voglio vedere altro Ma chiudo qui il gameplay Appunto per non spoilerarvi Ulteriormente altre cose Che potrebbero esserci Dele chicche Non lo so Perché è la prima volta Che lo gioco Essendo una preview Io spero che Vi sia piaciuto Potete supportare il canale Lasciando un like O un commento E se vi va Iscrivetevi E come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti